I tappeti sono un buon complemento nella decorazione della casa, ma a volte si raggrinzano e si piegano e ci possono far cadere. Tutto questo è già storia! Ti presentiamo Rugbrake, le fantastiche riutilizzabili protezioni di scivolo per tappeti che evitano che gli angoli si sollevino. Basta collocare il Rugbrake agli angoli e i tappeti non si solleveranno più dal pavimento. Sono finiti gli scivoloni e gli intoppi, perché il Rugbrake li fissa fermamente ed evita che slittino. Guarda da vicino! La tecnologia di fissaggio che utilizza il Rugbrake da un lato aderisce al tappeto e dall'altro centiraie di piccole cavità lo mantengono attaccato al pavimento. I tappeti rimangono sempre al loro posto su qualsiasi tipo di superficie. Guarda come scivola questo tappetino! Ma basta collocarvi il Rugbrake agli angoli e rimarrà fermo al suo posto. I tappetini del bagno scivolano e si raggrinzano sulle piestrelle. Colloca il Rugbrake agli angoli e rimarranno fermi al loro posto. I nastri adesivi sono molto difficili da togliere e lasciano residui che possono danneggiare il parquet. Invece le delicate cavità del Rugbrake aderiscono al suolo senza nessun adesivo. Non rigano né danneggiano il pavimento. Ci sono tessuti a discivolo ma si devono tagliare su misura e sono scomodi. Invece il Rugbrake si adatta a tappeti di qualsiasi tipo e dimensione. È facile da togliere e si può riutilizzare tutte le volte che si vuole. Questo tappeto non si leggerebbe mai su una lastra di vetro, ma basta collocargli il Rugbrake agli angoli e si attaccherà come una calamita sul metallo, senza dover utilizzare nessun prodotto adesivo. Inoltre, Rugbrake non perde mai la sua aderenza. Basta lavarlo e si potrà riutilizzare un'infinità di volte. Quando puliamo i tappeti con l'aspirapolvere, le punte si piegano e finiscono per rovinarsi. La soluzione è collocare il Rugbrake agli angoli e si potranno pulire tranquillamente con l'aspirapolvere. Camminerai senza correre il rischio di inciampare. Se sei stanca di inciampare, scivolare o perdere l'equilibrio con i tappeti, acquista subito il 7-8 Rugbrake, sufficienti per due tappeti di grandi dimensioni. Acquistalo subito!